Io faccio un appello, un appello affinché i napoletani si mostrino all'altezza di questa squadra, noi dobbiamo dimostrare di essere campioni sul campo e vincere, perché dobbiamo vincere ma campioni anche fuori, fuori lo stadio e dentro lo stadio, mi aspetto una grandissima prova come abbiamo fatto l'altra volta in Champions League, tifosi esemplari perfetti, una grandissima dimostrazione di quanto Napoli sia capace di affrontare queste sfide a tutto tondo e campioni anche fuori, accogliendo tutti i turisti che abbiamo nella nostra città, sono avversari e non sono nemici e poi veramente assurdo questa rivalità tra due città di mare come Napoli e Marseille, quindi mi aspetto una grande prova sportiva nel campo e una grande prova di civiltà e di sport e di cultura sportiva fuori dal campo.